Ogni tanto incontravo delle persone che mi dicevano, cosa stai facendo? Sto facendo un film, facevo un po' di querizia, che mi interessa molto, che mi diverte molto. Ah, io sto facendo un filmetto commerciale. Scusa, commerciale? Dillo dopo. Perché adesso che è commerciale, magari non fa una lira, è quello che io considero, invece magari fa più denaro. Come fai a dire in cinema, per fortuna, che è commerciale? La bacchetta magica in cinema non esiste, se Dio vuole. Io ero ancora iscritto all'università, durante le riprese mio padre ogni tanto arrivava col libro di diritto e diceva, con tutte queste pause che c'è in questa lavorazione, perché non studi un po'? Per fortuna il successo del film gli ha fatto passare questa idea balenga. Non potevo immaginare che mi avrebbe condizionato così tanto, ma non posso, non mi devo lamentare, perché è stato un condizionamento che mi ha portato, però mi ha relegato nel ruolo della borghese decadente ma piacente. Diciamo che un 50% del successo è suo, lo divido 50-50, perché è una grande attrice. Anche se qui qualche piccolo problemino l'abbiamo avuto, ma forse è stato costruttivo anche quello. Io la mia prima esperienza non ero così sicuro di essere un regista, quindi ogni tanto magari litigavamo, poi andavo in camera, sbattivo la capoccia contro un muro e diceva, vedi che abbia ragione lei. Sa anche essere molto duro quando è necessario, quando le cose sfuggono di mano su un sepper che succede. Però lui era con me dolcissimo e avevo un grande senso di protezione da parte sua. Infatti c'è la mitica frase, ero il più giovane della troupe compreso Lucaste e il capomacchinista prendendomi un po' in giro, finita l'inquadratura, si accollava la macchina e mi seguiva dicendo macchina dove, macchina dove, macchina dove. Mettendomi in totale ansia e facendomi sentire più inesperto di quanto non fossi, finché un giorno ho capito tutto, mi sono girato e ho detto dove dico io, quando dico io. E lì le cose si sono chiarite per sempre. Posso un piccolo aneddoto, ditemi voi quando mi devo fermare. Le prime proiezioni del film, il film fu girato, le prime scene, con un simpaticissimo ragazzo, un operatore di luce del centro sperimentale, il quale però era anche lui la sua prima opera con Salvatore. Ora non si possono mettere troppe prime opere insieme perché se no esce un pasticcio, quello che noi abbiamo visto sullo schermo di Abano vicino al cinema la sera. Io sembravo una specie di fantasma che appariva e poi scompariva, poi riappariva e non si vedevano le luci. Dico ragazzi che facciamo? Mi ricordo che uscimmo da lì e io ho preso Enzo Dorico, senti Enzo qui siete tutte alle prime armi, dico io un po' di ossa me le sono fatte, adesso andiamo in albergo e decidiamo qualcosa perché non possiamo girare il film in questo modo. Io chiamai Aldo Scavardo nel mezzo della notte, dissi Aldo per favore, e lui disse una cosa molto carina, mi ha detto per te vengo alla fine del mondo. Adesso magari uno lo vede e si nota una certa ingenuità, anche perché poi il film è stato girato a basso costo, io nel film ho fatto l'aiuto regista e quindi so bene le sofferenze passate a trovare, a trovare, a fare sopra il luogo e trovare posti sempre lì intorno ad Abano, è stata una bella esperienza comunque. Un giorno mi ha detto sai abbiamo finito la pellicola, dico allora che si fa vacanza, mi ha detto devo andare a Roma a comprare la pellicola e allora vai, dice ma senza soldi non vado, ho capito, ho fatto un assegno di 3 milioni e l'ho data, lui è andato a Roma a comprare la pellicola, ma sono cose belle queste, questo è cinema. Purtroppo come malizia del resto, tu fai un film e come sai adesso meno, ma una volta c'erano gli sceneggiatori pronti lunedì mattina, i produttori vedevano i film e quello che aveva fatto Western fino al giorno prima, faceva calare la penna sulla carta o la macchina scrive e partivano voglio un film come, quindi generalmente pensiamo a quello che hanno fatto quei Decameroni e il povero Pasolini, l'hanno fatto anche a me. Ma sai, sono situazioni quelle lì che sono talmente diciamo esistenziali, di un giovane che rifiuta l'impegno, i doveri, la vita comoda, il benessere, la famiglia, la regolarità, il conformismo, il benessere, che diciamo tutti a quel tempo si sono medesimati, perché appunto il periodo era quello lì, quello del rifiuto dei valori. Lui aveva la necessità della lettura psicoanalitica della situazione, quindi se gli doveva muovere quella mano, ogni tanto avevamo trovato dei gesti, dovevo assolutamente dargli delle spiegazioni psicoanalitiche, la lettura che aveva fatto lui del film era psicoanalitica, per me era leggermente differente, però a lui dovevo sempre spiegare le cose, anche quando secondo me non c'erano queste cose. Allora voleva delle spiegazioni, però era un grandissimo attore, la vita non gli è stata, non gli ha dato tutto quello che lui meritava. Io ho sempre pensato che fra Lea e Alvise non fosse successo proprio niente, il potere, il grande potere di una seduzione ossessiva, e chi gestisce tutto è lui, è il bambino, è il ragazzino, lui gestiva questa donna, e l'ha gestita al punto che credo che questo abbia molto influito sul successo dei film. La presenza di questo film è costato 40 milioni, è incassato 3 miliardi. La presenza di questa donna è un buonuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è una confessione però, non la puoi mettere in onda. Te la dico ma non la puoi mettere in onda. D'accordo, la dica ma la taglierò. Ma se lei mi dice tagliare la taglio. Questa è una cosa che io ho vissuto e che non ho capito. Questo è un film che io non ho capito, non ho mai capito successo di questo film. E' questo piccolo film in bianco e nero che ha veramente fatto un'epoca. Non mi ricordo chi scrisse, in Francia c'è Jean Moreau, in Italia c'è Lisa Gastoni, non mi ricordo chi l'ha scritto. Comunque, questa cosa enorme che ha poi avuto enormi conseguenze nella mia vita. Ma c'è qualche cosa, secondo me, questa scatola magica di cui parliamo, c'è qualcosa di misterioso nel cinema. Il cinema è una cosa così intima, così personale, quando siamo davanti alla macchina da presa ci vai nuda, sono le emozioni, il tuo corpo, le emozioni. Stai vendendo una parte di te stessa e non sai dove andrà a finire, non sai a chi si rivolgerà, non sai che conseguenze avrà, non sai dove vanno a toccare le cose, le conseguenze che avranno. Adesso non è più importante perché adesso è tutto, ma continuo a ripeterlo perché non me ne frega niente di essere catastrofica. Stiamo ballando sul cratere di un vulcano, non lo so. Sono molto contenta di avere 69 anni, 70 e 28 luglio.